Di che? Oh my god, un vista con l'emba guarda che che l'ho, Jay, stanno da Ciroapo Assalamualaikum guys, come on? How are you? How are you? How are you? I am back with you guys with another reaction video with my... I am Naim Hussain, I am Rodeh Lama, I am Rodeh Lama, I am Rodeh Lama, I am Rodeh Lama, what are you doing today? What are you doing today? So I dragged him to make a reaction video with me, so do you know who you are? I don't know What is that? I am a singer I am a singer She is a singer So she is viral, she will be watching So I am going to make you react to that So that's why you know Nana No, I am not sure So I am going to see you at night, so I am going to see her dreams So I am going to see you at night I am a Dharma Chinapu, she is very famous I mean, showing famous On a cute So okay, I am going to see you at night Okay sure I am going to see you at night Okay? Okay, I am going to see you at night I am going to see you at night I am going to see you at night When are you going to see you at night? These are fruits and cultural perché c'è il suo cuore? è l'amico l'amico di una copia . 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 Alguera c'è uno, non c'è uno! Alguera c'è un poetico e udara C'è uno che si che ha facciato C'è un po' così costo C'è un po'� pollo ma sono gli bambini Si dice di te le 기ansi D mountaine C'è le cance C'è un po' così? C'è un po' così Non, non I am avvisato a te. No, mi ha detto che la mia figlia non vissà. C'era un po' di film, non vissà un po' di film. Non vissà? La mia figlia and la mia figlia è ch equate da partire. Non, anche così... Ha chiesto che metti da partire, no? Spostante qui sono in una coda. cosa sto facendo? i non per quanto mi non è un pozzo ma non ho provato a casa allora si chiamo un ragazzo sul discone e mi cosa devo rimpare di singapore mi dice che è un singapore che cos'è il pozzo? lo stesso oh si? è fortissimo come la mia la mia famiglia è bella mi piace vedi la mia famiglia ok, vedi la mia famiglia i loro vittori sono i suoi amici oh maio i tuoi amici oh, la mia famiglia ah, la mia famiglia i tuoi amici i tuoi amici a te la mia famiglia Si si dicevi, non gli abiti. Si dicevi che tra i ragazzi e il ragazzo, gli abiti prima di usare a ragazzo? Si, la ragazzo stiamo avuto. Ci sono sicurezza che sia la ragazza 3 giorni per me. Non ci sono le mie per te, non? No, ci sono le mie. Oggi, non ci sono, non ci sono. Ci sono le mie opinioni. lo che conta ci vediamo anche se ma chi mi piace mi piace come mi piace allora fa anche se cosse vediamo anche se se siamo in buja le cosse si potrebbe andare Come and talk to Torvani Kshandar This video and comment down below on what reaction video shall I do next and we are gonna see you guys on my next video. Peace!